Ok, ciao ragazzi, questo è il mio primo video E va bene Dai, come primo video spero che farò una bella partita Perché se non faccio una bella partita sappiate che non vi porto niente Se tipo faccio una partita con una kill e ci muoio Non ve la porto, due kill, tanto o meno se ho fatto due kill belle Sono quasi arrivato verso la fine E invece faccio tipo 5-6 kill così Andando anche in passi un po' per disperduti Va bene, quello è importante Poi vi posterò due video alla settimana e basta Il sabato e la domenica Perché durante la settimana devo andare a scuola In questi giorni no, però non posso in questi giorni È per questo che ho creato il canale oggi e vi caricherò un video oggi Ok raga Ditemi voi se posso migliorare in qualcosa Non su Fortnite ma nel fare dubbio Allora direi di andare verso qua Io ci vado Poi dopo passo a pinna con i pendenti a vedere se ci va Se c'è qualcuno che è rimasto Provo a killarlo Se muoio non carico niente ovviamente Uscirà un video oggi È un video forse E uscirà un video anche Il venerdì tipo ne farò uno Lo posterò sabato Poi di sabato ne farò un altro Lo posterò di domenica Io non faccio live Ve lo dico Questa è una cosa Che vi dico Importante Ricordatevi Io non faccio live No live Sul mio canale Cosa Raga Ditemi Che avete visto Ci ho aperto Ho aperto la porta Quando ero Ancora Quando avevo aperto il deltaplano Questo gioco è bello Ma buggato Lo so che direte Ce ne siamo già accorti Però Ne vale la pena dirlo ancora Gli piazziamo una trappola Perché E ragazzi Non ho loot Non ho loot Non ho loot Gli ho piazzato una trappola Ma ne piazzerò un'altra lì Così se entra da di là Si piazza la trappola Se entra da di qua Si piazza la trappola Sono un nob Vabbè Lì era atterrato col tizio Ovviamente c'è Raga aspettiamo che entra Siamo stalto Vabbè raga Pusciamo Chissene Prego Aspettate raga Ci sono due tizi lì Pusciamo Ok Raga sono morti Ah non caccia un nobile Che buono Dipende Tentacca colpi Questo 20 Però Chissene No Perché Ok Questo è il mio loot Principale Vediamo dove posso andare Di safe Potrei andare Parco Però Pinnacoli no Perché so che ci muoio Però parco di là Non è di qua Sì Lì Vediamo un po' Cosa riesco a fare In questa partita Quelli L'avevo visto L'avevo visto Tutti e due Infatti ho aspettato Poi appena ho visto Che ci sono fightati Mi sono buttato dentro Perché sapevo che era basso Perché si erano nittati Avevano pure shield Cosa che io non avevo Però Il medikit Non me lo sono tirato Mi dico una cosa Non ho l'automira Aspetta Metto l'autocorsa Intanto Non ho l'automira Perché A me dà fastidio Guardate Mi resistita No Perché Dà Troppo fastidio Tipo Tu stai sparando A uno Ti sposta così Tu stai sparando A quello Magari con il cecchino Che lì E fa così Tu stai per sparare E ti sposta così E non è utile per niente Sto cercando di portarvi Una partita bella È tipo Già la settima clip Che provo a fare Che provo a fare Raga non ci credo Raga non ci credo ancora È scappato Dov'è? Devo sapere dov'è Dov'è killarlo Dove sei Dove sei Bambino Oh Che bello Pem No Con questo si può fare Uno scoop Tipo Pem Oppure Tipo No perché è bello Tipo fai così Boom No Ho svegliato Salti Pam No scoop Che loot Cioè se non aveva loot Era anche No ma ce l'aveva Mi ha portato un pompa O un caccia Cos'è? Una pistola Vabbè Mi ha portato i colpi Adesso lo usa No no Chissà Mi fa altra gente Davanti a me Ok raga Non l'ho colpito bene Raga Non l'ho colpito bene Raga Non l'ho colpito bene Non l'ho colpito Non l'ho colpito No Così a caso Lo killo Va bene Raga Adesso stoppo Il video forse E lo Lo riavvio Ce ne faccio un altro Così Da fare due parti Perché sennò Ho paura che dura Troppo poco C'è non troppo poco Come dire Beh Vedrete